Ragazzi, benvenuti in questo ultimo episodio della Z-Challenge Abbiamo saltato alcune lettere, ovvero la U, X, Y e Z Purtroppo perché non ci sono abbastanza Pokémon per fare un team Magari più in là dopo l'uscita del DLC potremo anche rifarla se vi è piaciuta Tuttavia, ad oggi questa nostra avventura abbiamo totalizzato ben 20 punti Su 19 lettere giocate, oggi giochiamo la ventesima Questo significa che abbiamo vinto oltre il 50% delle partite Io sono soddisfatto Ditemi voi cosa ne pensate nei commenti, quindi lasciate un commento e lasciate anche un like Ma soprattutto consigliatemi nel commento altre challenge da fare Sia in VGC20 che non, insomma Terò in considerazione qualsiasi commento Quindi forza, forza, vi rispondo sempre Ormai manca pochissimo al DLC E oggi è in mente di fare una Monotype Quindi con Pokémon dello stesso tipo Sempre una challenge simile E vediamo come andrà Vediamo anche come si evolverà il meta dopo l'uscita del DLC Magari troviamo anche qualcos'altro Magari mi consiglierete qualcosa di molto figo da fare nei commenti, chi lo sa Ma torniamo a noi Oggi giochiamo il team con la W E vedete un Wabuffet E ho voluto mettercelo Ho voluto mettere Wabuffet con Shadow Tag Quindi la stessa abilità di Gothel che trappa gli avversari dentro Però purtroppo non è Gran Kev lo dico già Quindi non so se lo porteremo Abbiamo un Whimsicott Molto utile Tailwind Infatti tutti i Pokémon che ho fatto di questo team Sono sulla velocità di 107 Così raddoppiata Siamo più veloci di Dragapult Abbiamo un Wailord Spex Che praticamente è uguale all'Octillery Solo che lui è veloce Wailord stranamente veloce Octillery era lento Quindi vediamo Wailord Choice Spex cosa farà Wishy Wash Con una Agwab Per non andare mai sotto al 25% degli HP 25% Wheezing Perché mi sembrava l'unico tipo Veleno Folletto E quindi volevo mettercelo Life Orb Di danni ne fa Ne fa E Weavile Un po' di supporto Un po' offensivo Sinceramente non ho trovato un set Troppo diciamo Il set perfetto in questo team per Weavile Però vediamo Vediamo come va Non è un team fortissimo Lo dico già C'erano 27 tipi acqua con la W Ma purtroppo dobbiamo Fare con quello che abbiamo Quindi vediamo di prendere almeno un punto oggi E Concludiamo in bellezza Questa A Z Challenge Andiamo Avversario trovato Forza 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 Giapponese Rank 7 Vediamo Già vedo un Rillaboom Che non mi piace per niente Perché Purtroppo Abbiamo due tipi acqua Io non ho idea di come buttare giù Quel Rillaboom Soprattutto se è Assault West Perché Il nostro Wheezing ovviamente è speciale Però 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 Allora Eh 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 Io comunque devo partire Eh però Lui parte di Rillaboom È un casino È un casino E mi partirà sicuramente di Rillaboom Se parto Whimsicott Wheezing Non genera il campo erboso Le sue mosse sono un po' Diciamo Indebolite È vero che non ho L'abilità prankster Su Whimsicott Ma comunque è molto veloce Quindi Potrebbe comunque far bene E Io mi porterei Wailord lo stesso No forse Wishy Wash Meglio Abbiamo Abbiamo Mossa a terra Non ricordo Terra Acciaio E water Eh ci serve però Una ghiaccio No Ci serve Wailord No in realtà abbiamo Weavile Quindi portiamo Wishy Wash E Weavile Vediamo così Purtroppo Non è il turno di Wobbuffet Vediamo di portarlo Alla prossima Eh Rillaboom Problemino Perché Avendo due tipi Acqua Come sweeper Del team Potrebbe essere Un problema Quindi vediamo Di Toglierlo subito Dalle Belotas Soprattutto E What Lui mi leada Lui mi leada di doppia Doppio fake out Potenzialmente Ah è vero Io non ho Non ho Nei tralasi in gas Su questo Whising Ma ho Levitate Io ovviamente Non mi ricordo Ah beh Comunque in questo caso È Indifferente È vero Perché Se no Mi annullava L'abilità Di Wishy Wash Giusto Giusto Mi ha Già Dimenticato Quindi Quindi Se io Facessi Ma se Io Dynamics Assessi Sto Whising Life Orb Per Shottare Quel Rillaboom Potrebbe essere Un'idea A me piacerebbe Fare La kill Di qua Pronti via Una bella Maxus Eh si Così andiamo Anche A più uno Certo che Se lui Non Lui toglie Rillaboom E dentro Di Gudra Che non Prenderà Praticamente Niente Anche A più due E lui Dynamics Incineror No Che sto Dicendo Vabbè Ciao E sono io Questo Non so perché Così Ho flashato Che era lui Che stava Dynamics Non so perché Dynamics Abbiamo Whising Quindi Certo Non Il top Del top Ma Vediamo di fare Qualcosa Ok Fakeout Arriva su Whimsicott Quindi Minchia Che danni Quindi Dynamics Fa Zero Zero Di danno Immaginavo 15% E Gudra Qua Se la spassa Perché Vero che abbiamo La mossa Folletto Possiamo fargli Anche se Dynamics Non dovrebbe Essere Assault West Perché Comunque Ha preso Non prenderebbe 15 Da Assault West Immagino Quindi Quindi Io gli farei Un Fake Tears Più Max Starfall Togliamo Subito Gudra Che potrebbe Essere Un problemino Anche perché Inzineror Con La Folletto Cioè Si Farebbe Male ma Sicuramente È meglio Farla su Gudra Che tra L'altro Sta per Dynamics Are Secondo me Dovrebbe Essere Più Lento Del nostro Wheezing Se non Sbaglio A 107 Di speed Però Lui potrebbe Essere Più Veloce Perché Oddio Non ricordo La Il massimo Di velocità Di Gudra Dal danno Che ha preso Probabilmente Non è Un Gudra Bulky Però Non lo sappiamo Vediamo Magari Chi parte Prima Vediamo 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 Ok Prima noi Max Starfall Life Orb Max Starfall Life Orb Tira giù Quel Gudra A meno Due ovviamente Dopo il Fake Tears Quindi Quindi Abbiamo fatto Ah giusto Siamo anche A più uno Di attacco speciale Con Wheezing Ottimo Allora Abbiamo Bruciato La Dynamics Vediamo Lui Che cosa Farà Snarl Eh Allora Dobbiamo Togliere Assolutamente Questo Incineror Da lì Perché Rompe un po' Le palline Con Snarl Visto che Eravamo a più uno Adesso siamo a più zero Per colpa sua È più lento Però eh Quindi Io devo fare una kill In questo turno E per fare una kill In questo turno Devo attaccare Potrebbe Secondo me Insineror Anche perché Quello che mi dà più problemi Ma in realtà Wishy Woshy Dietro Wishy Woshy Dietro Quasi 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 Tolgo Non lo so Quasi 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 Tolgo Geridos Sono indeciso Lui che aveva Ah Rillabum Giusto Beh Beh si dai Togliamo Togliamo Geridos Sempre Starfall Che è quella Più potente Tra l'altro Lui Rientrando Poi si rimette Il campo erboso Quindi Dobbiamo farci attenzione Sarà Più veloce Cavolo Bounce Cavolo Eh avrei dovuto Attaccare ovviamente Insineror Allora Ah Pesante Questa Bravo lui Bravo Mi ha Predictato Piro Adesso Sono a meno Uno Eh avrei dovuto Togli insineror Lo sapevo Sono a meno Uno E Ma se facessi Doppio attacco No perché Tanto Ma se Togliessi Wheezing Invece Il bounce Me lo prendo Su Wishiwashi Se me lo paralizzo Poi è un casinissimo In realtà Bounce Potrebbe Anche averlo Fatto su Già Su Su Wimsicott Ma io gli faccio Magari uno Stranger Steam Di qua Più Fake Tears Intanto Mettiamo A meno Due Tutto Non è vero Non ha effetto Non ha effetto Fake Tears Non ha effetto Fake Tears Vabbè Come Ultima partita Della serie Ragazzi Non potete Non aspettarvi Delle cagate Meglio così Meglio così Come Dopo la Geyser Su Gastrodon Arrivano Anche queste Io sono A meno Due Adesso Entro Di Wishiwashi O di Wevile Wishiwashi Mi darebbe Una kill Su Incineror Wevile Però Mi serve Per poi Far fuori Rillabomb Io sono Fisico Con Wishiwashi Vediamo Me Ovviamente Conviene Attaccare Incineror Adesso Uscire Di qua Perché A meno Due Faccio Niente Entro Di Wevile Magari Lui fa Bounce Di nuovo No Beh Waterfall Non penso No Potrebbe Fare Bounce Oppure Se ce l'ha Fa Power Whip Magari Su Su Wishiwash Lui però Lo ritira Attenzione Attenzione Perché Entra Rillabomb Però Se entra Liquidation Su Incineror Secondo me Va KO E Potremmo Essere Una Buona Situazione Potremmo Essere Una Buona Situazione Perché Poi Rientra Geridos Che Non ha Intimidate Attenzione Se non Sbaglio Però Lui Ha Protect Ha Protect Allora La Protect Cambia Un po' Tutto Però No In realtà Perché Lui Adesso C'ha Fake Out Con Rillabomb Ma 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 Io sono Più Veloce Con Wishiwash Di No Non è Vero Non sono Mai Più Veloce Lui ha Fake Out Rientra Con Geridos E Poi Rientra Con Eh Ma Io Come Come Gli La Stop Questa Cosa Fake Out Su Chi Me Lo Fa Ovviamente Su Situazione Di Vantaggio In Teoria Lui Adesso Esce Entra Di Geridos Esce Insinero Entra Geridos E Mi Fa Fake Out Su Wishy Wash Penso Proviamo Proviamo Così Non Faccio Fake Out Almeno Uno Due Attacchi Secondo Me Va Segno Tanto Fare Liquidation Su Geridos Non Mi Interessa Ah Lui Ha Intimidate Io Allora Mi Sono Sognato Il Moxie Me Lo Sono Proprio Sognato Allora Lui Non Fa Fake Out Il Lazy Call Crash Purtroppo A meno Uno Allora Però Fa 50% Ok Buon Danno Flincia Flincia Culo Questo E Eh Flincia Importante Perché Non Ci Rovina Diciamo Wishy Woshy E adesso Lui però Potrebbe Rientrare Benissimo Di Incineror Nella Slot Di Di Rillaboom Quindi Lui è più Veloce Ma Io Vi farei Questa Cosa Qua Per Coprire Le Opzioni E' Vero Che Le Farei A Meno Due Però Esatto Avrei Dovuto Fare Brick Brack Sono A Meno Due Ma Comunque Il Dano Di Wishy Woshy Fidatevi Che Sarà Abbastanza Alto Probabilmente Non Lo Shot Ma Fa Male Si Call Crash Evita Lui Ah Danza Però Attenzione Lui c'ha Dragon Dance Quindi c'ha Waterfall Bounce Dragon Dance E Protect Immagino Arrivederà la Liquidation Il danno è ottimo E' ottimo Il danno Cos'è Lui è Weakness Policy E' Weakness Policy No vabbè Non lo sarei mai Aspettata Non lo sarei mai Aspettata La Weakness Policy E se lui c'ha Fake Out Più Waterfall Tutto su Vile E io devo Toglierlo Dovrei togliere Anche Wishy Woshy Da che sono Meno Due Con Entrambi Però Però Secondo me Lui Non se lo aspetta Che io resti Con Wishy Woshy Beh no In realtà Ci sto comodo Con Wishy Woshy Se ha Power Whip Ma non penso Perché Ha Dragon Dance Quindi Wheezing Praticamente Non mi serve Più Secondo me Weeval Invece Mi serve Assolutamente Anche perché È più veloce Di Incineroar Eh ma comunque Fake Out Infatti Che ha più due Che danni Ok E quindi la Liquidation Finisce il lavoro Su Incineroar Anche perché È a meno uno Di difesa Purtroppo Purtroppo Ci teniamo in campo Un Wishy Woshy A Meno due Però Abbiamo un Weeval Pronto a Spaccare Tutto Quindi Qua lui Mi 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 Vuole fare Fake Out Secondo me Me lo fa Su Weeval Me lo Cerca di fare Perché se io gli faccio Esi col crash Così Per buttarlo giù Eh Lui non muore Io devo andare Di Iron Tail Di qua Più Fake Out Di qua Lui mi farà Waterfall Eh ma che devo fare Non penso abbia Protect Su Fa sì che sia Sufficiente Please Waterfall Su Weeval Ma io ho il Sesh E questa Iron Tail Deve entrare Ovviamente non entra Perfetto Perfetto Dio Non so se Secondo me L'avrebbe buttato giù Però Secondo me Sì È praticamente Andata allora Se non avesse missato Ovvio come sempre Avremmo fatto qualcosa Ma adesso In questa situazione Cosa dobbiamo fare Dobbiamo sperare Nel flinch Nel flinch Di Eh ma Di tutti e due Non lo so Non lo so Lui proteggere Il bomb Però Attenzione Sta cercando di Perderla Secondo me Isegol Crash E se flincia Non è male Se flincia 50% di danno Ma ovviamente Non flincia Figurati Figurati Il miss Lo prendiamo Di iron tail Ma ovviamente Non Si flincia L'avversario Mai Mai ragazzi Attenzione No 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 E io sono A meno due Geridos Praticamente Non lo tocco Proviamoci Magari un crit Qualcosa La vedo difficile Si lui c'ha anche Bounce Ed è a più uno Ma il V Dammer Penso Finisca Infatti Peccato 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 Partita Molto tirata Devo dire Però Ci siamo andati vicini Devo dire questa cosa Ragazzi Niente punto Per questa prima partita Andiamo con la seconda Eccoci L'ultimo avversario Di questa challenge È Miki Rank 7 Dai Cerchiamo di concludere Con una vittoria Sarà Sarà tosta Però Perché Miki Ha un bel team Maiotik Esattamente Come Lo tiro giù I have No idea Non Ne Ho Idea Proprio Però Posso fare Wimsicott Wailord Posso fare Wimsicott Wailord Sempre se Lui non mi lida Di Toxtrisi Di cosa Molto Molto Probabile Però Io porterei Wobbafett Perché è l'unico Modo Magari Di tirare giù Maiotik Guarda Io non ho Idea Se no Di Cosa fargli Non ho Mosse Elettro A erba Niente Zero Zero E In ultimo Beh Wivile Potrebbe Dire la sua Potrebbe Dire la sua Quindi Portiamo Tutti Per questa In questo ultimo episodio Portiamo tutti Gli I pokemon Di questo team Vediamo Vediamo cosa ne uscirà Con questo Wobbafett Sono sicuro Ganger Togekiss Non male Non male Per niente Perché qua Noi facciamo Tailwind Più Waterspout E vediamo Un po' Il danno Che fa Wailord Choice Specs Ti prego Amico mio Vai Fai Il tuo Lavoro Vai Wailord Zampippo Il Successore Di Octillery Ci abbiamo Octillery C'aveva più Attacco speciale Sì Follow me Bravissimo Così si fa Lui vorrebbe Mettere Trickroom Immagino E la metterà Perché sarà Sesh Quel Ganger Ma No Ice Punch Ice Punch Ganger Ok Quindi Parti il Woterspout Tra l'altro Ganger Scarf Perché Altrimenti Non si spiega Come fa Essere Più Veloce Di Di Wailord Sotto Tailwind Eh Ecco Questo è un altro Problema Ferro torna Esattamente Che gli diciamo Io faccio Fake Tears Più Waterspout Ma Non so Quanto danno Possiamo fargli Anche perché Lui Denamax Era Molto probabilmente Se fa Follow me Il Fake Tears Arriva Su Togekiss Purtroppo Cosa che Assolutamente Inutile Tra l'altro È bello Bulk Che quel Togekiss Perché ha preso Relativamente Poco Danno Eccolo Lì Ah Ai 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 Eh Io non ho portato Wheezing Non ho portato Wheezing Mannaggia Eh Non pensavo Portasse Ferrodon Però Giustamente Poteva Farlo Tranquillamente Fake Tears Ok Va su di lui Intanto Sta a meno Due Difesa Speciale Anche se Water Spout Mii Che danni Su Ferrodon Mii Però Però Eh arriva la Max Overgrove Ci tira giù Tutta la vita Però Dai Non demordiamo Abbiamo ancora Wab Affetti dietro Non pensavo Di dire Mai nella mia vita Questa cosa Però E Dobbiamo fare Tipo Un altro Fake Tears E Poi Moonblast Ma non so Se Riusciamo a reggere Sinceramente Se entro Di Fui Vile Forse è meglio Mi faccio Brick Break Eh in qualche Modo lo devo Tirare giù Brick Break Moonblast E Spero Posso solo Sperare Ormai Reunigloss Non è Un ottimo Avversario Contro Cioè non è un ottimo Check Di Wivile In questo caso Però Potrei anche fare Il ping End Però Moonblast È a meno Due Io mi rompo La sesh Però Attaccandolo Purtroppo Eh lo devo Danamaxare Per forza Che brutta Giocata Che sto Per fare Che brutta Giocata Danamaxare Un sesh Ma tanto Chi Danamax Wimsicot Farebbe Comunque Poco Almeno La break Break È super Efficace Andiamo Più Non Attacco Almeno Potremmo Pensare Di resistere Una mossa Forse Forse Beh una mossa No non è vero Perché Iron Barb Se ci rompe la sesh Che brutta Situazione Ah E il danno Non è neanche Troppo Basso Vediamo il Moonblast Ti prego Wimsy Fai la magia Wimsy No C'è la pacca È la Citrus Sì È Citrus Moonblast Sarebbe andato Giù Forse Oddio Mi sa che era Tipo Lilli Ma tra l'altro Noi abbiamo ancora La sesh Però Che però Non serve Attenzione Reuniglus Ha fatto Trickrum Ha fatto Trickrum E questi Sono i veri Problemi Della vita Questi sono i veri Problemi Della vita Eh già Una Trickrum Quando Tu hai Weavile Hai una Tailwind Eh qua Reuniglus Mi tira giù Wimsicott E Ferrodon Mi tira giù Weavile Provo il Moonblast Disperato Su Ferrodon E Non lo so Non ci arriverò Mai A farlo Ovviamente E Boh Focus Blast Lui si è rischiato La Focus Blast Ma sei un Pazzo Ti prego Wimsy Ti prego Resisti Ti prego Resisti Hai la Babiri No Ed ora è tutto Nelle mani È tutto Nelle sue mani Wimsy Forse il turno precedente Avrei dovuto attaccare Reuniglus Più che È una tanto S Sì Avrei dovuto Decisamente attaccare Reuniglus Che Avrebbe settato Trickrum Certo Lui Vabbè I miss di Focus Blast Avremmo vinto Non ci voglio Pensare Calmi C'è Wobb Affetto Allora Ci fa più Non so Vi faccio Counter Counter È per le mosse fisiche Mirror Code È per le mosse speciali E non posso Scegliere Il target Se non sbaglio Facciamo Counter Eh niente Lo devo fare su di me E poi Sperare Che vada Sul target Giusto Thunder Missa Una volta Missa Devi missare Ingrain Ingrain Voglio piangere Ma che mossa è Ingrain Ma che cos'è Ma attaccami Sei 1 V2 2 V1 Eh assorbi Mo te lo dicevo Che cosa assorbi Guarda mo faccio Mirror Code Lui missa Guardalo Io lo so già Lo so già Che io lo faccio E lui missa Con Reonic Lo so Se no Mi fa Parassi se Guarda c'è Ingrain Parassi se Ma io lo so No No Non missa Ancora Ancora Non missa Ti prego No vabbè No vabbè Se rimango paralizzato No No Power whip Che non missa Vabbè Ma Ma di che stiamo parlando Ma di che stiamo parlando Ha fatto 27 mostri Con 70 Di accuracy E non Ne ha Missata Una Non Ne ha Missata Una Ragazzi Io vi saluto Così Cioè Zero punti Oggi 20 punti Collezionati in tutto Su 20 partite Giocate Quindi esattamente Il 50% Di win rate Ci vediamo In un prossimo video Che non so Quale sarà Ma ci sarà Sicuramente Quindi Che non so Grazie a tutti.